Buongiorno mister, dopo il Brescia e prima del po', come ha lavorato la squadra? Hanno recuperato molto bene, c'è stata un po' di diciamo di piccola delusione del fatto che non siamo riusciti a vincere la partita, però hanno compreso che siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e quindi dobbiamo proseguire su questo, sappiamo che il secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di diverso, i motivi sono tanti ma non sto spiegarli e quindi li ho visti molto tranquilli, sereni perché hanno tamponato un'emoragia e hanno ripreso lo spirito dell'anno scorso, è il più bel primo tempo di quest'anno. Filippo, buongiorno mister, questi motivi è il secondo tempo di Brescia, quindi si è lavorato su questi motivi e quindi non li ritroveremo domenica? Come fai a dire che non so se li ritroveremo? Non sappiamo che motivi sono, magari motivi di… Tanti motivi, tanti motivi, il primo che vi dico così capite che dopo tre sconfitte qualsiasi squadra al mondo ha paura di vincere, ma qualsiasi, qualsiasi e quindi a noi ci è preso un po' la paura perché siamo esseri umani, perché venivamo da tre sconfitte e quindi qualsiasi squadra al mondo ha paura e quindi può essere stato un momento di atteggiamento conservativo che invece è sbagliato perché secondo me il primo tempo è stato il primo tempo del Sud Tirol quest'anno per intensità, per qualità del gioco, per come hanno aggredito l'avversario e quindi sono contento. Chiaro che secondo abbiamo fatto qualcosa di diverso e questo è un motivo, poi ce ne sono tanti altri, perché non abbiamo portato in casa e poi in porto la vittoria. Non li ritroveremo più? Non lo so, però sono convinto che la squadra ha riemboccato la strada giusta e quindi non devo cercare di cambiare meno possibile da quell'atteggiamento del primo tempo. Io ho ancora le tue domande, la prima sulla condizione degli infortunati, non recupera nessuno, se rimangono quelli o se ce ne va qualcuno? Rimangono quelli, ancora si è fermato Odogu dopo la partita, è andato a fare ecografie, non lo so, attacchi, non lo so, non hanno trovato niente ma lui sente dolore a questa parte dell'aduttore, ma si vede, non si allena e quindi si vede, speriamo Davi che riesca a fare allenamento, Davi è cinque giorni che non si allena, Davi per quello tutti hanno detto perché non ha giocato, perché non poteva giocare, allora sapevate bene, quindi e speriamo oggi che anche lì tutti i strumenti hanno dato esito negativo ma lui sente dolore, Rover non recupera, Siega non recupera, Vinetto non recupera, Kofli non recupera e quindi siamo rimasti nelle solite condizioni, però ho detto la squadra secondo me è consapevole di aver imboccato la strada giusta. Livello di 11 iniziale, possiamo aspettare tanti cambiamenti? Pochi, 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 devo stare attento anche al fatto che ho detto no, no Dogu, non so se ce l'hanno neanche in Pachina, perché non so cosa oggi gli faranno fare, quindi devo stare attento, devo vedere Lunetta e dopo una grande partita è uscito che anche lì la sfortuna quest'anno ha preso una piccola distorsione dove si era operato, pinta alterna dei momenti particolari e dei momenti no, quindi devo vedere, per me la difesa ha lavorato bene, tranne nella situazione, non solo la difesa, ha lavorato bene, quindi non credo a tanti stravolgimenti, non credo.